Stiamo cercando un po' di comprendere come i ristoratori, i bar, le attività che hanno subito e stanno subendo le conseguenze del DPCM, conseguenze di chiusura a una certa ora, stiamo vedendo come cercano di reagire, che clima stanno vivendo, immagino ovviamente il calo notevolissimo, pesante delle entrate. Siamo qui a Taranto con Franco Tamborrini nel suo locale, la nota attività, ristorante e pizzeria Santa Caterina in Viale Magna Grecia. E allora alle 18 il Big Ben dice stop. Ci siamo fermati, siamo in ginocchio, non vedo per quale motivo ci è stata questa fermata, abbiamo sempre osservato delle misure di sicurezza, ci atteniamo a tutte le disposizioni. Per quanto riguarda questo, poi c'è questo terrorismo mediatico di tutti, si accende la televisione e la gente ha paura, non sa cosa fare, questo è il particolare. Dice alle 18 i ristoranti chiodono. D'altronde voi applicate le misure anti-covid, le prescrizioni anti-covid in maniera scrupolosa, in maniera pignola, quindi non si capisce per quale motivo a pranzo sì e la sera no, quando la sera verrebbero applicate le stesse prescrizioni della mattina. Ma abbiamo il locale aperto, il discorso è che abbiamo tutto quello che deve funzionare, mi dice come si può mandare avanti un'attività con le stesse persone, perché abbiamo bisogno, c'è, devi conquistare le merci, la luce sta accesa, i dipendenti ci sono sempre... Fate solo l'asporto. Facciamo solo l'asporto la sera, a mezzogiorno già abbiamo perso il 50% a mezzogiorno con tutti che rimaniamo aperti, perché la gente non sa, ha paura, ha paura, questo è il discorso, è che non sa. A volte chiama e dice ma possiamo venire, si può accedere, c'è qualche cosa, non puoi. C'è certamente uno stato di apprezzione, oltretutto è matematico purtroppo, che poi alla fine, a lungo andare, questa situazione si riverbererà anche sui dipendenti. Assolutamente, perché comunque a fine mese la gente sta lavorando, perché comunque abbiamo bisogno che, come vedete, ci sono gente, a mezzogiorno si lavora in quello che si può fare. La sera dobbiamo fare l'asporto, devi tenere l'attività in piedi, ma con che cosa? Facciamo meno del 50%, c'è meno del 50%, magari potevamo fare il 50%, questo è tutto nel... Oltretutto queste situazioni, c'era tutta l'estate perché a livello nazionale e a livello regionale ci si organizzasse per evitare di arrivare poi a ottobre a chiudere di nuovo tutto. E ho terrore anche che, non per fare il profeta di sventure, ma che qui andremo anche oltre, rischiamo di andare proprio al lockdown totale. Speriamo, speriamo, c'è in pratica come dobbiamo fare? C'è in pratica se non arrivano degli aiuti, c'è in pratica che noi stiamo aperti, c'è in tanti ristoranti che sono già chiusi. E poi magari non riapriranno proprio più. C'è il rischio di non aprire più. Come si fa? Si deve pensare a degli aiuti che devono sostenere totalmente tutto questo danno. Oltretutto, sì, il governo Conte fa la politica degli annunci, sembrava quasi, sentendo le sue parole, che già i soldi fossero stati accreditati, fossero già accreditati sul conto corrente. E poi abbiamo visto le peripezie per la storia dei 600 euro, i ritardi nella cassa integrazione. Cioè, si fa vedere una realtà felice, paradisiaca, che così non è. Qui ci si ritrova con gli imprenditori che hanno, che vanno al di sotto, al 40% degli incassi, se tutto va bene, con i dipendenti da pagare e siamo sull'astrico. Assolutamente, c'è in pratica, non c'è, ribadiamo sempre, come abbiamo detto prima, non ci sono le condizioni per andare avanti. Qua c'è il rischio di chiusura, chiusura totale, non ce la facciamo. Grazie a tutti.